Il mondo sta cambiando, il mondo sta cambiando perché il mondo cambia da sempre, però in questo periodo sta cambiando a una velocità maggiore di quanto ha fatto fino adesso, perché una volta che le cose da materiali diventano immateriali, le velocità di cambiamento aumentano. E qui, tu hai detto prima che sono un politico e un deputato, la seconda è vera, la prima non tanto, io non ho mai fatto politica in vita mia, sono un informatico. È una presa di distanza questa? Non è una presa di distanza, è una chiara delimitazione, cioè io non faccio vita politica e non intendo farla, nel senso che non è un mio interesse. Poi nella vita non si può mai dire, però sono capitato lì per caso, sono capitato lì per una questione di fiducia. Sono capitato lì perché un 6 gennaio di qualche anno fa mi telefonò Monti e mi chiese se ero disponibile a dare un contributo. Dopo qualche discussione in famiglia ho detto di sì. E la fiducia lì veniva da delle persone che gli avevano parlato, dei professionisti che gli avevano parlato di me e della mia attività. In un mondo che cambia così velocemente perché l'immateriale è velocissimo rispetto al materiale che ha delle inerzie, perché trasferire richiede tempo, trasferire costa, archiviare costa, invece nell'immateriale trasferire non richiede tempo, trasferire non costa, archiviare non costa, quindi le dinamiche sono tutte diverse. In un mondo sì fatto il ruolo della fiducia aumenta tantissimo perché è uno degli abilitatori dei processi di scambio di informazioni. Prima è stato ricordato che la fiducia è un valore intangibile, che è un valore che è alla base di scelte, che poi sono scelte che diventano scelte economiche, quindi c'è un valore economico. Sempre di più, è stato ricordato il caso della Volkswagen, giustamente, la fiducia che sta intorno al prodotto fa una parte di quel valore di intangibile che sta intorno a un prodotto e che fa parte del prodotto. Allora il prodotto non è solo quello che noi abbiamo in mano in un determinato momento, ma è tutto quello che ci sta intorno, dalla commercializzazione, dall'idea, dalla fiducia che viene costruita intorno ad esso. All'Eva diceva prima, ha parlato di fiducia nello scenario attraverso i dati che rappresentano lo scenario, quindi uno deve avere fiducia nello scenario per investire e i dati che li rappresenta deve avere fiducia che sia una rappresentazione accurata per poter fare degli investimenti. Ha parlato di fiducia in se stessi, poi uno ha fiducia in se stesso. Io credo che ci sia un'altra dimensione di fiducia di cui dobbiamo parlare, che è la fiducia nelle persone. Nelle persone e per estensione nelle organizzazioni. È fiducia in qualcuno e in qualcuno che può essere una persona o l'organizzazione che è la somma di queste persone. E da qui la fiducia in queste persone è relativa a un ambito del loro operato o del loro lavoro. La fiducia nelle persone è una cosa che sia in qualche modo direttamente o mediata dall'informazione, la fiducia nelle organizzazioni è anche una fiducia nelle regole che queste organizzazioni si danno o che la società dà a queste organizzazioni. Per cui noi abbiamo molta fiducia nelle aziende quotate negli Stati Uniti, abbiamo meno fiducia nelle aziende quotate in altri paesi, abbiamo molta fiducia sui dati economici dell'Italia, abbiamo meno fiducia sui dati economici di qualche tigra asiatica. Perché la fiducia nel contesto che dà delle regole è inferiore. E questo, ecco, la fiducia è un vettore entrante, non è un vettore uscente. Uscente diamo comportamenti, atti, sincerità. C'è un famoso corso di vendita che diceva la sincerità negli affari è tutto se riesci a fingerla è svoltato. Però è una cosa che costruiamo nel tempo ed è qualcosa che gli altri hanno nei confronti di qualcuno. Quindi è un vettore entrante. È un vettore entrante che va costruito con molta fatica, con una coerenza di percorso. Ed è un vettore che è facilissimo da distruggere. Perché basta un pezzo di software fatto male in una centralina e tu distruggi potenzialmente un'azienda. Ma dietro a quell'azienda poi ci sono persone, ci sono interessi economici, ci sono famiglie, c'è gente che lavora. E lì la coerenza e la sincerità hanno peccato di coerenza. I signori che hanno alterato il software della centralina hanno peccato in sincerità. La sincerità è un valore fondamentale perché in una vita, ecco c'è un'altra cosa, nel materiale noi siamo abituati che le cose deperiscono. Nell'immateriale invece, visto che archiviare non costa, resta. E allora è una spinta ad essere più sinceri perché semplicemente noi non possiamo ricordarci tutto. Perché alla base dell'insincerità occorre una grossa memoria per essere bugiardi. E quindi questi signori hanno finto una sincerità che poi si è rivoltata contro di noi. Quando il dato viene fuori e prima o poi viene fuori perché i mezzi per l'accesso all'informazione aumentano. Anna ha parlato dell'attività fatta dalla Camera. L'attività fatta dalla Camera è un'attività tesa in termini di comunicazione, un'attività tesa a ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Perché il rapporto si era incrinato, perché nella comunicazione che era mediata prima, purtroppo sono state fatte delle cose sbagliate da parte di qualcuno, ci torno alla fine. E allora, grazie alla tecnologia, si rivolge al pubblico in modo disintermediato per dare informazione e trasparenza, sperando di costruire in ritorno questo vettore entrante che è la fiducia. E in effetti, devo dire che il rapporto con la Camera come istituzione è migliorato tantissimo da parte dei cittadini, nel senso che adesso si fanno dei distingui in più. Diciamo che noi abbiamo subito come Paese uno shock di fiducia che è cominciato nel 1992, con la famosa Mani Pulite, e questo ha tolto la fiducia nel sistema politico, e da lì poi è accascata in tutto quello che la politica in qualche modo governa. Io all'epoca ero ancora in università, quindi non è colpa mia. Un altro shock di fiducia ce l'abbiamo avuto qualche anno fa, quando in un determinato momento il mondo non ha più avuto fiducia nell'Italia. E abbiamo dovuto chiamare qualcuno che aveva una credibilità, una fiducia personale in se stesso enorme, per cercare di riportare fiducia nell'organizzazione Paese. Ci ricordiamo l'attacco con lo spread BTP Bund che cresceva. L'attacco non è altro che i fondi che gestiscono i nostri soldi della pensione, quelli con cui noi ci incavoliamo, se hanno dei rendimenti bassi, che dicono che lì c'è il rischio di fare una perdita, quindi io vado via. E lo spread alla fine misura la fiducia? Lo spread è una misura di fiducia. Abbiamo dovuto chiamare Monti, una persona che godeva di una fiducia incredibile, per poter ricostruire questa cosa. Perché quello poi aveva degli impatti diretti, aumento del costo del debito, aumento del costo del debito, possibilità magari di ripagare pensioni, di pagare pensioni, di pagare stipendi. Cioè la fiducia ha dei risvolti diretti, economici, estremamente importanti. E uno shock di fiducia è una cosa molto difficile da gestire, soprattutto nell'era della comunicazione globale istantanea, come dicevo prima. Ecco, rispetto all'istituzione, la fiducia è uno, forse il capitale di base che si usa per ottenere dei risultati. Nel senso che se tu proponi qualcosa, la gente deve avere fiducia in te, molta fiducia, perché i temi sono molto complessi. Cioè ci sono dei dettagli che cambiano il mondo e che solamente le persone estremamente addentro... Prendi il caso adesso della mancanza di fiducia nei vaccini e i disastri che sta facendo. Quindi ci sono cose molto complicate. Cioè una, dico mia moglie, per dire una persona di cultura media, eccetera, non può essere esperta come una biologa o una virologa su questi temi. E quindi naturalmente devi avere fiducia. Se vuoi ottenere dei risultati, fare delle proposte, devi avere un rapporto di fiducia. Io quello che sto cercando di fare... Ripeto, sono capitato la camera un po' per caso. E quando mi fu chiesto quali sarebbero state le mie priorità alla camera, io dissi che io avrei cercato di fare il virus dell'innovazione alla camera. Sei riuscito a inocularlo? Beh, insomma, giudica tu. Direi che sono stati due anni molto produttivi. Non solo alla camera, anche al Senato, eccetera. Una delle cose che ho fatto è stato cercare di costruire fiducia nei rapporti tra le persone che sono interessate a questi temi. Ho costituito insieme con i colleghi l'intergruppo parlamentare per l'innovazione che ricordava Anna prima, che è una buona parte delle... che contribuisce a una grossa parte delle attività fatte dalla camera, perché la Presidente Boldrini ha fatto dell'innovazione, della trasparenza, della comunicazione diretta, la cifra della sua presidenza, e chiaramente questa cosa faceva gioco, faceva sponda. E siamo 83-85 parlamentari, tra deputati e senatori. Di tutti i partiti di movimento. Di tutti, prima ne mancava uno, adesso c'è anche quell'uno. Quindi di tutti i partiti e movimenti. E abbiamo avuto degli shock di fiducia. Però adesso non voglio entrare troppo in dettario, se no parleremo per un quarto d'ora. Che poi è stato costoso ricostruire. Però sono persone che hanno fiducia, che rispetto a certi ambiti, a certi temi, hanno fiducia l'uno dell'altro. Perché si sa che non si cerca di strumentalizzare quelle cose per fini di propaganda. Diciamo che alla fine quel che vi tiene insieme è più di quel che vi divide. Su certi ambiti sicuramente sì. Non è un caso che su tutte le cose a carattere, non tutte, però su buona parte delle cose a carattere tecnologico innovativo, approvate alla Camera, emendamenti, a leggi, eccetera, alcuni provenienti anche dal Barcamp, siamo stati approvati tipo con quattro voti contrari, zero voti contrari. Cioè c'è una grandissima unanimità su queste cose. Voi andate a vedere certi emendamenti e scoprite, se vedete una roba che è approvata con quasi unanimità, scoprite che due volte su tre è legata a temi di innovazione. Volevo solo concludere in qualche modo, che però ho cancellato l'appunto, quindi non concludo più. Avevo troppa fiducia. La provvidenza esiste. Tecnologico. No, aspetta. Cacchio, me lo sono dimenticato. Mi prendo un bonus per 30 secondi di recupero. Non so se li avrai, auguriamocelo. A questo punto, visto che ci sono numerosi studenti in sala, che sono i clienti in qualche modo dell'innovazione e dell'istruzione, c'è l'erogatore dei servizi che loro utilizzano ogni giorno, quindi avrete poi, se avete qualcosa da dire sulla scuola che frequentate, la persona che sta qui alla sinistra di Stefano Quintarelli è la persona a cui rivolgersi. Francesco Lucisano è il capo della segreteria tecnica del MIUR. Voi in qualche modo, abbiamo parlato di fiducia, abbiamo parlato di quanto rilevante sia la fiducia per l'innovazione e quanto sia importante in un mondo che si innova. Voi siete al centro, uno snodo importante, della domanda e dell'offerta di fiducia. Sì, esattamente. Anzitutto stavo pensando che quando Felicia mi ha reinvitato, il primo convegno qui è stato a febbraio, e poi mi ha subito reinvitato, ero terrorizzato perché al tempo la riforma della scuola, la buona scuola, aveva appena concluso la fase di consultazione pubblica. Io avevo raccontato come la consultazione pubblica, che è stata la più grande mai fatta da un governo, un milione e mezzo di persone coinvolte, era servita a creare fiducia sul fatto che il governo effettivamente avrebbe fatto succedere le cose, dopodiché dovevano succedere. Sono successe, nel senso che grazie anche al lavoro dei parlamentari, a luglio la riforma è stata approvata, e adesso probabilmente le scuole cominceranno ad accorgersi che qualcosa sta cambiando. Domanda e offerta. Sì, mi sembra l'approccio giusto. Come comparto conoscenza, quindi il ministero ha scuola, università e ricerca, noi siamo davvero, a mio parere, il più grande creatore di domanda di innovazione del paese, con la scuola, e il più promettente creatore di offerta di innovazione con l'università e la ricerca. Partiamo dalla scuola. Perché è un creatore di domanda? Perché la scuola è enorme. Gli studenti che vanno a scuola ogni giorno sono 8 milioni. Per ogni studente c'è una famiglia, e quindi sostanzialmente le domande che metti nella testa delle persone attraverso la scuola hanno una ricaduta enorme sul paese. E se tu riesci a immettere nella testa e nella vita vissuta degli studenti domanda di innovazione e messaggi di fiducia, beh, certamente questo si ripercuote con molta forza sul paese. Però, e mi viene da dire che il tentativo di riforma della buona scuola in alcune parti che sono state, secondo me, le più importanti e le meno discusse, puntavano proprio a questo, a immettere fiducia nel sistema. Perché gli italiani, c'era un sondaggio molto interessante del Corriere della Sera di un mese fa, hanno ancora fiducia nella scuola. Ci credono che la scuola può cambiare il futuro dei figli, però non credono più, e questa è una cosa che era emersa con forza anche nella consultazione, per esempio che la scuola è capace di farti trovare un lavoro nel futuro, in un futuro in cui il lavoro cambia molto rapidamente, o non credono che la scuola sia capace di darti quegli strumenti per stare nel mondo digitale con consapevolezza. Nonostante gli studenti siano nativi digitali, beh, l'alfabetizzazione digitale deve venire dalla scuola. E allora come fai a creare fiducia che questo possa succedere nella scuola? E qui mi viene in mente una questione un po' più generale. Noi abbiamo pensato che i vettori entranti da utilizzare fossero apertura, responsabilità e trasparenza come valori da condividere. E a fronte di questi, mettendo questi nella scuola, si otteneva fiducia. Non è sempre così. In passato la fiducia si otteneva col carisma, con l'ideologia, con la religione, con la magia. Noi abbiamo creduto che in quest'epoca la fiducia si crea aprendo i sistemi, dando responsabilità e autonomia alle persone e creando trasparenza. Che cosa vuol dire apertura? Apertura vuol dire ad esempio che la scuola con la legge si apre al territorio. Voi ragazzi siete dell'ultimo anno, non beneficerete perché siete in uscita, passerete all'università, ma tutti i ragazzi degli ultimi tre anni di tutte le scuole italiane da quest'anno in avanti dovranno fare un'esperienza di scuola-lavoro obbligatoriamente e sarà valutata, magari qualcuno di voi l'ha già fatta, però diventerà obbligatorio, sarà valutata, parte dell'esame di maturità e sarà finanziata, e l'abbiamo finanziata. Quindi è una cosa che succederà. Allora, la capacità di aprire il mondo della scuola, che è molto vasto ma spesso molto autoreferenziale, all'esperienza del mondo del lavoro, senza dire che i ragazzi vanno a fare lavoro gratuito, ma dicendo che i ragazzi vanno a mettere il naso in quello che li aspetta dopo, beh, è un gigantesco meccanismo capace di creare fiducia intorno alla propria abilità di cambiare il futuro. O ancora, responsabilità, dare responsabilità alle persone è il modo migliore di costruire fiducia. Il messaggio negativo che è arrivato è il preside sceriffo. Ma dire che i dirigenti scolastici e gli insegnanti hanno una responsabilità nel modo in cui si amministra la singola scuola e quindi i ragazzi non devono lamentarsi solo con me, ma devono lamentarsi anche con il loro insegnante, devono chiedere il rispetto delle promesse, delle offerte che fa la scuola al loro dirigente e il dirigente ha gli strumenti per garantire questa cosa. Beh, questo è un messaggio che crea fiducia. Cito un caso simpatico su questo tema per dire che dare responsabilità può anche far girare la testa ai sistemi complessi come la scuola. Noi abbiamo fatto quest'anno un bando che secondo me è bellissimo ed è il bando per i laboratori territoriali per l'occupabilità. È un bando in cui investiamo 45 milioni di euro che permetterà di aprire circa 60 grandi laboratori nei territori costruiti da reti di scuole insieme a università, imprese, comuni, regioni in cui ogni scuola potrà farci quello che vuole. Potrà essere un fab lab, potrà essere un laboratorio di programmazione, potrà essere una cucina, potrà essere un orto, potrà essere qualsiasi cosa. Ecco, questo qui era il primo bando in cui noi abbiamo scelto di non dire alle scuole cosa dovevano fare. Di non dire alle scuole se vinci questo bando avrai 5 computer, 6 stampanti 3D, 10 banchi, eccetera. Non gliel'abbiamo detto. All'inizio panico. Oddio, cosa ci facciamo? Dovete dircelo, dateci una scheda tecnica, vogliamo sapere a che cosa dobbiamo concorrere. Dopodiché sono arrivate circa 600 proposte fantastiche. Un laboratorio su una nave, un laboratorio fatto insieme a una grande casa automobilistica che non cito perché per fare un'officina e fare una grande fab lab del legno, lavori per imparare a gestire il verde nelle aree archeologiche. Di tutto a testimonianza che se tu dai responsabilità ricevi indietro fiducia e viceversa. Ma bisogna avere la capacità di perdere il controllo a un certo punto e questa è una cosa che l'amministrazione locale deve fare. Dicevo, c'è un altro lato, questa è la scuola come creatore di domanda, di innovazione e quindi con questo meccanismo di apertura e che poi ti ritorna indietro auspicabilmente fiducia. Noi siamo anche potenzialmente il più grande e promettente creatore di offerta, di innovazione a patto che però ci si fidi di questo e questo non è detto. Pare che il paese non creda ancora pienamente nel potenziale della sua università e della sua ricerca per creare innovazione. I ragazzi qua sono di Pavia, vero? Pavia ha circa 70.000 abitanti. Ecco, noi negli ultimi 3-4 anni, adesso non mi ricordo chiaramente la statistica, abbiamo perso circa 70.000 iscritti all'università, cioè dei ragazzi che nell'epoca della conoscenza si iscrivono di meno. Una città come Pavia non va più all'università. Non va più all'università. E allora pare che si sia persa la fiducia nel sistema del fatto che l'università sia lo strumento che ti permette di dare soluzioni al mondo esterno con la ricerca e di dare soluzioni alle tue sfide occupazionali aiutandoti a trovare lavoro, facendoti assumere quelle competenze. Ebbene, noi su questo dobbiamo definitivamente cambiare verso. Per un motivo molto chiaro è un racconto, un episodio che cito che dice molto sul valore della conoscenza pura dello studio e della ricerca per innovare il paese. Voi sapete cos'è Y Combinator? Y Combinator è il più famoso e importante incubatore di start-up americane. In dieci anni Y Combinator ha capitalizzato imprese per 30 miliardi di dollari quindi ha fatto grandi start-up innovative. Bene, da quest'anno il ministero delegato di Y Combinator ha detto a noi non ci basta più innovare attraverso le start-up. Noi abbiamo bisogno perché vogliamo risolvere i problemi del mondo di investire nella ricerca di base, di investire nella ricerca pura, di investire nei centri di ricerca e nell'università. Ecco, se ci sono arrivati perfino gli start-up americani al fatto che è attraverso il sapere puro e attraverso il ricercatore che studia la natura di una molecola e non necessariamente soltanto come applicarla poi nella tecnologia quindi alla base vera della conoscenza se da lì se crediamo che da lì si parta per fare innovazione beh, allora lì le cose le cambiamo per davvero. bisogna investirci bisogna aumentare il numero dei ricercatori italiani sono troppo pochi rispetto alla media europea bisogna aumentare il numero di ragazzi che vanno all'università con il diritto allo studio bisogna mettere un po' di merito nell'università specie nei docenti qualcosina stiamo facendo in legge di stabilità 500 nuovi docenti scelti per merito mille ricercatori in più è l'inizio perché ce n'è di strada da fare però se agiamo sulla domanda e sull'offerta la fiducia si crea voglio fare solo un ultimo pezzettino più generale noi io lavoro in una grandissima amministrazione pubblica che da lavoro a un milione di persone è una follia Anna lavora nel Parlamento presidente dell'ISTAT c'è un problema che dobbiamo affrontare come narrativa delle amministrazioni centrali del governo e delle grandi amministrazioni pubbliche noi italiani ci siamo sempre raccontati che l'innovazione può nascere soltanto in periferia e nonostante che l'innovazione la fa l'insegnante bravissimo che nonostante sia pagato poco e nonostante non se lo fidi nessuno porta i ragazzi a vedere una cosa che non conoscono che lo fa il sindaco di un piccolo comune nonostante l'amministrazione centrale ecco io questa cosa la ripeto alla nausea ma credo che sia arrivato il momento di cambiare questa narrativa noi dobbiamo comunicare che o l'innovazione è capace di diventare la corrente principale il decumano del paese per citare l'expo cioè o siamo anche noi dal centro nella grande macchina che accettiamo la sfida dell'innovazione e smettiamo di rimare contro oppure il paese non cambia perché gli italiani di eccezioni innovative ce ne hanno sempre avute ma il fatto che siamo fermi da vent'anni col PIL vuol dire che non bastano più queste eccezioni e allora basta salmoni che nuotano contro corrente proviamo a essere noi la corrente che cambia anche perché di PIL in questi ultimi anni ne abbiamo persi 9 punti ne abbiamo persi tanti e nel frattempo il problema è che sono cresciuti gli altri quindi assolutamente allora grazie grazie a Francesco Lucisano è stato evocato da Francesco il ruolo delle aziende qui abbiamo un rappresentante delle aziende Cristiano Radelli che è presidente dell'Anitec che sono le aziende che in qualche modo si occupano di innovazione quindi sono due volte da essa coinvolti in primo luogo perché per fare impresa ci vuole fiducia e capacità di innovare in secondo luogo perché l'innovazione in qualche modo è ciò di cui voi statutariamente vi occupate sì grazie grazie anche per l'invito a partecipare a questo evento ma partirei proprio da uno dei punti citati adesso da Francesco Lucisano ed è il questo aspetto del mondo che è cambiato rispetto al passato con la necessità di trasparenza delega di responsabilità e condivisione degli obiettivi da raggiungere questo non è successo oggi casualmente è successo grazie alla rivoluzione digitale hai bisogno che chi agisce possa farlo in tempo immediato e quindi tutte le persone che prestano loro opera nel pubblico o nel privato hanno la necessità perché la cosa sia effettiva di poter dare una risposta in tempo immediato alle domande che ricevono per poterlo fare e per avere un risultato positivo è necessario che queste persone abbiano condiviso quello che è l'obiettivo dell'ente o dell'azienda per la quale lavorano e abbiano fiducia nella trasmissione del messaggio di come l'hanno ricevuta dai loro capi in questo senso l'innovazione deve conciliarsi in modo strettissimo con la fiducia tema di oggi della che la società nella quale viviamo società anche in senso appunto di ente o di azienda sia in grado di innovare e quindi il mondo in cui siamo è frutto ovviamente anche delle innovazioni che abbiamo avuto vediamo un attimo anche i passi futuri cominciamo riprendendoci anche al tema del pane a livello europeo a livello europeo finalmente si comincia a sentire non soltanto nel settore specifici tecnologici dove magari se ne parla da anni ma ho avuto modo ad esempio settimana scorsa al convegno di confindustria italiana con l'equivalente la BDI la confindustria tedesca di ascoltare Werner Hoyer che è il presidente della banca europea degli investimenti quindi un personaggio evidentemente di grande rilievo non del settore tecnologico con piacere ho apprezzato che la gran parte del suo intervento era dedicato a dire come l'Europa deve mettere la trasformazione del digitale come elemento prioritario perché solo in questo modo si può ritornare a dare maggiore competitività all'industria e le nazioni europee allora sentirlo diciamo da chi come me arriva dal settore tecnologico nel nostro ambiente lo si dice da tempo ma dal presidente della banca europea degli investimenti è un passo fondamentale ed importante ma anche qui diciamo ricollegandoci proprio al tema al tema proposto credo ci siano due aspetti da un lato c'è l'evidente necessità di investimenti quindi gli investimenti infrastrutturali sulla larga banda sugli sviluppi sui servizi da fornire che sono da un lato un elemento necessario ma dall'altro perché questi investimenti poi vengano utilizzati e se fatti da privati portino un ritorno è necessario che i cittadini abbiano la fiducia di poterli utilizzare si discute della sicurezza dei dati si discute della capacità di gestione dei dati fatti a livello nazionale a livello europeo a livello globale sono questi elementi essenziali perché tutti noi utilizziamo gli strumenti e i servizi digitali se abbiamo fiducia che ciò che ci viene dato sia congruente con quelle che sono nostre aspettative e che l'utilizzo dei dati che noi mettiamo nel sistema sia all'interno di regole che devono esistere e devono essere controllate dalle istituzioni quindi il fatto anche in questo sviluppo che è fondamentale per l'Europa c'è sempre questo legame di dare e avere tra l'evoluzione infrastrutturale tecnologica ma la capacità che questa ha di avere delle regole da trasmettere fiducia a chi utilizza i nuovi sistemi di poter avere una sicurezza appunto nelle cose che fa e che riceve l'altro aspetto culturale collegato a questi passaggi sul quale dobbiamo fare molto e anche come Anitec stiamo guidando in questo momento in Italia due progetti europei uno è i skills for job quindi le competenze insieme al MIUR le competenze digitali per trovare lavoro e l'altro è quello relativo allo sviluppo dell'imprenditoria digitale che facciamo sempre col MIUR e con il MISE il Ministro di Sviluppo Economico vorrei approfondire quest'ultimo aspetto il primo l'ha già toccato Francesco ed è questo oggi ci troviamo in una situazione nel quale è necessario sviluppare l'innovazione questa per essere come vi hanno detto tutti i relatori competitivi allora guardiamo adesso le statistiche cosa ci dicono che diciamo in Estremo Oriente due terze delle persone sono pronte e disponibili a sviluppare un proprio business se ne hanno la possibilità negli Stati Uniti circa il 50% in Europa Italia compresa siamo sul 30% in un momento nel quale per tanti versi è necessario lo sviluppo il supporto le piccole e medie imprese è necessario la capacità di sviluppare start up è un dato preoccupante per questo c'è questo progetto europeo supportato dalla presenza del consiglio e dai ministeri relativi di sviluppare l'imprenditoria digitale il progetto si chiama What If I che è un acronimo diciamo dall'inglese di What If I che cosa se io mi mettessi a fare l'imprenditore perché per poter sviluppare l'innovazione è necessario che tutti noi poi ci mettiamo la faccia ci mettiamo in gioco questo è importante è un importante cambiamento a livello culturale e vorrei dire richiede anche dei cambiamenti a livello regolatorio perché c'è una differenza molto importante tra le leggi italiane e europee da un lato ad esempio quelle americane se negli Stati Uniti uno fa un'iniziativa e l'iniziativa fallisce è l'iniziativa che fallisce purtroppo in molti paesi europei in Italia sicuramente se l'iniziativa fallisce è la persona che ha fallito in questo modo Steve Jobs credo non avrebbe mai fatto Apple cioè bisogna capere e distinguere che insomma tutti noi nella vita facciamo delle scelte e poi ci accorgiamo qualcuno è giusta qualcuno è sbagliata e poi ci spostiamo allo stesso modo per poter davvero dare chance per sviluppare l'innovazione ed essere concreti sulle idee nuove è necessario che si dà dato seguito anche a questo cambio culturale ma anche legislativo di permettere di sperimentare ovviamente in modo corretto legale ma avendo la capacità che se l'iniziativa fallisce non fallisce la persona e quindi dando fiducia a chi è coinvolto di poter ricreare valore e ricreare attività nuove grazie 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 a Cristiano Nadelli eravamo debitori di 15 secondi a Stefano Quintarelli che gli restituiamo per le start up c'è il meccanismo per cui non fallisci quindi per le start up è stato introdotto dal governo volevo dire due cose il fatto che l'informazione penetra grazie a internet eccetera in tutte le strutture e diventa un solvente e quindi oltre agli aspetti formali diventano importantissimi anche gli aspetti informali e la comunicazione informale tra le persone è fondamentale per costruire la fiducia e il transatlantico per dire è un luogo dove si costruiscono rapporti informali fortissimi ed è e lì si svolge una grossa parte dell'attività quindi molto occhio che non si tratta solo di formalismo e fiducia nell'organizzazione nelle strutture che si dà eccetera ma rapporti sull'informalità seconda ed ultimissima volevo chiudere su questo prima noi il mondo è molto complicato ed è difficile entrare nel merito e nel dettaglio per cui noi tendiamo a sostituire una parte per il tutto noi diciamo tutti i politici sono corrotti tutti i politici sono ladri tutti i politici sono interessati io vi posso dire essendo un non politico che è lì che non è così che la maggior parte delle persone sono persone di buona volontà che lavorano per il bene di tutti e che non puntano non sono interessati alla loro poltrona solo per la loro sopravvivenza sono interessati ad essere lì per fare qualcosa questo ve lo posso assicurare essendo lì direttamente io non credo che tutti i dipendenti della CEA siano piuttosto che del comune di Roma e così via diciamo che nel comune di Sanremo ce n'è una buona parte nel comune di Sanremo ce n'è una buona parte i comportamenti negativi sono virali ahimè per effetto della comunicazione e della informazione ma il punto che volevo dire è che se non abbiamo rispetto per qualcuno visto che tendiamo a sostituire il qualcuno con il tutto perdiamo anche se non abbiamo rispetto per qualcuno perdiamo la fiducia in tutti e questo è molto negativo grazie a tutti